Benvenuti all'italiano ed intorni. Oggi scopriamo perché si dice che il 13 porta sfortuna. Davvero il 13 ci porta sfortuna e soprattutto venerdì 13. Da dove deriva questo modo di dire? Beh, diciamo che la prima origine risale alla mitologia scandinava. Si diceva praticamente che c'erano 12 semidei, poi arrivò Loki, un altro semidio, ma molto crudele con gli uomini. Ecco perché in quelle terre il 13 porta davvero sfortuna e di mal augurio. Un'altra, diciamo, ipotesi è quella legata all'ultima cena di Cristo, dove c'erano 12 apostoli più uno, che era Giuda. Ma l'associazione con il numero 13 e la sfortuna è documentata comunque anche in epoche precedenti. Per esempio il greco Diodoro Siculo si riferisce, riferisce che Filippo II, che era re di Macedonia e papà di Alessandro Magno, fu ucciso da una sua guardia del corpo perché aveva osato mettere la sua statua vicino a quella di 12 dei. Uno sgarro tremendo per gli dei. Ma forse la differenza, diffidenza, insomma l'avversità verso il numero 13 risale ad epoche ancora più lontane, quelle ad esempio delle concezioni astrologiche degli assiro-babilonesi. Loro dicevano che il 12 era un numero sacro, facilmente divisibile. Ecco perché quello dopo doveva per forza portare sfortuna. Sappiamo anche che nell'antica Roma c'erano ad esempio i giorni positivi e negativi, quindi i giorni in cui si poteva ad esempio fare amministrazione, chiamati appunto dies fasti, e quelli invece assolutamente da non toccare che erano quelli nefasti. Per esempio il martedì era sfortunato per i romani perché era dedicato a Marte, dio della discordia. Mentre allo stesso modo ad esempio si credeva che i figli che venivano concepiti di venerdì avessero comunque una vita difficile. Ecco che tutti questi modi di dire vengono ovviamente da delle dicerie, da modi di pensare in epoche diverse. Oggi veramente porta sfortuna al numero 13, ma chi lo sa? Alla prossima!